Ci sono molti nomi con cui è chiamato il Signore Gesù Cristo. Questi nomi ci fanno riflettere sui diversi aspetti della sua missione espiatoria. Prendiamo ad esempio il titolo di Salvatore. Tutti comprendiamo quello che significa essere salvati, perché ognuno di noi in qualche occasione è stato salvato da qualcosa. Da bambini, io e mia sorella stavamo giocando in una piccola barca su un fiume, quando poco saggiamente ci allontanammo dalla zona sicura e ci ritrovammo spinti dalla corrente e andare incontro a qualche pericolo sconosciuto. Rispondendo alle grida, nostro padre corse in nostro soccorso, salvandoci dai pericoli del fiume. Quando penso alla salvezza, mi viene in mente quella esperienza. Il titolo di Redentore ci porta a considerazione simile. Redimere significa comprare o riscattare, dal punto di vista legale, un bene immobile riscattato se si estinguono il mutuo o le pitoiche. Ai tempi dell'Antico Testamento, la legge di Mosè prevedeva diversi modi in cui i servi e le proprietà potevano essere riscattate o redente tramite pagamento di denaro. Nelle scritture, un uso importante della parola redimere riguarda la liberazione dei figli di Israele dalla creatività in Egitto. Dopo la liberazione, Mosè disse loro, perché l'Eterno vi ama, vi attratti fuori con mana potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. Nelle scritture ricorre molte volte il tema di Geova che redime il popolo di Israele dalla cattività. Spesso viene fatto per ricordare al popolo la bontà del Signore nel liberare i figlioli di Israele dagli egiziani, ma anche per insegnare che ci sarebbe stata per Israele un'altra redenzione, più importante. Lei spiegò, e il Messia verrà nella pienezza del tempo per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta. Il salmista scrisse, ma il Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti. Il Signore dichiarò attraverso Esaia, io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una demsa nube e i tuoi peccati come una nuvola attorno a me, perché io l'ho riscattato. La redenzione a cui fanno riferimento questi tre versetti è ovviamente l'espiazione di Gesù Cristo. Questa è l'abbondanza di redenzione offerta da un Dio amorevole. A differenza dei riscatti sotto la legge di Mosè o nei contratti legali moderni, questa redenzione non avviene con cose corruttibili come argento o con oro. In Cristo noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il Presidente John Taylor insegnò che grazie al sacrificio del Redentore il debito è pagato, la redenzione ottenuta, l'alleanza adempiuta, la giustizia soddisfatta, la volontà di Dio eseguita e tutto il potere è rimesso nelle mani del Figlio di Dio. Gli effetti di questa redenzione comprendono il superamento della morte fisica per tutti i figli di Dio, ovvero la morte temporale sarà sconfitta e tutti risolgeremo. Un altro aspetto di questa redenzione operata da Cristo è la vittoria sulla morte spirituale. Con la sofferenza e la morte, Cristo pagò per i peccati di tutta l'uminità a patto che ci sia un pentimento individuale. Pertanto, se ci pentiamo, i nostri peccati ci possono essere perdonati, giacché il prezzo è stato pagato dal nostro Redentore. Questa è una buona notizia per tutti noi, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Chi si è allontanato molto dai sentieri della rettitudine ha disperatamente bisogno di questa redenzione e se si pente completamente la ottiene. Tuttavia, anche chi ha lavorato sodo per condurre una buona esistenza ha disperatamente bisogno di questa redenzione, perché nessuno può giungere alla presenza del Padre senza l'aiuto di Cristo. Così, questa redenzione amorevole permette alle leggi della giustizia e della misericordia di essere soddisfatte nella vita di chi si pente e segue Cristo. Completo è il piano che è ed empi, disegno redentor, giustizia e amore in armonia con la merced del cielo. Il Presidente Boy Kepa, che l'ha insegnato, c'è un Redentore, un Mediatore, risposto e in grado di soddisfare le richieste della giustizia e di porgere misericordia ai penitenti. Le scritture, la letteratura e le esperienze della vita sono pieni di storie di redenzione. Grazie a Cristo, le persone possono cambiare la propria vita e ottenere la redenzione. Amo queste storie. Ho un amico che da giovane non ha seguito gli insegnamenti della Chiesa. Da giovane adulto si rese conto di quello che aveva perso per non aver messo in pratica il Vangelo. Si è pentito, è cambiato e si è impegnato a vivere in maniera retta. Un giorno, anni dopo le nostre attività giovanili, l'ho incontrato nel Tempio. La luce del Vangelo brillava nei suoi occhi e ho sentito che era un membro devoto della Chiesa, che cercava di mettere pienamente in pratica il Vangelo. La sua è una storia di redenzione. Una volta intervistai il battesimo una donna che aveva commesso un grave peccato. Durante l'intervista le chiese si avesse compreso che non avrebbe più potuto commettere quel peccato. Gli occhi e la voce esternavano la profonda emozione che provava quando mi rispose «Oh, Presidente, non potrei ripetere quel peccato. Questo è il motivo per cui voglio essere battezzata, per purificarmi dagli effetti di quel peccato». La sua è una storia di redenzione. Negli ultimi anni, durante la mia partecipazione a conferenze di Palo e in altre riunioni, ho ripetuto l'invito del Presidente Monson di salvare i membri meno attivi della Chiesa. In una conferenza di Palo raccontai la storia di un membro meno attivo che era ritornato alla piena attività dopo che il Vescovo e altri dirigenti erano andati a trovarlo a casa. Gli avevano detto che c'era bisogno di lui e lo avevano chiamato a severe nel rione. L'uomo non accettò solo la chiamata, ma cambiò la vita e le abitudini, divenendo completamente attivo nella Chiesa. Un mio amico si trovava nella congregazione e il suo volto cambiò visibilmente mentre raccontavo la storia. Il giorno dopo mi mandò un'email spiegandomi che la sua commezione era dovuta al fatto che la storia del ritorno all'attività nella Chiesa di suo suocero era molto simile a quella che avevo raccontato. Mi scrisse che a seguito di una visita simile del Vescovo e dell'invito a servire nella Chiesa, suo suocero rivalutò la propria vita e la sua testimonianza, apportò grandi cambiamenti e accettò la chiamata. Quell'uomo ritiavato ora ha 88 discendenti che sono membri attivi della Chiesa. Qualche giorno dopo, in una riunione, raccontai entrambi le storie. Il giorno successivo ricevete un'altra email che iniziava così. Questa è anche la storia di mio padre. Quell'email, scritta da un presidente di Palo, spiegava che suo padre fosse stato invitato a servire nella Chiesa, anche se non era attivo e voleva alcune abitudini che doveva cambiare. Accettò l'invito e nel processo si pentì. Quindi servì come presidente di Palo e poi di missione, ponendo solide fondamenta affinché la sua posterità fosse fedele nella Chiesa. Qualche settimana dopo, narrai tutte e tre le storie in un'altra conferenza di Palo. Dopo la riunione, un uomo venne da me e mi disse che non era la storia di suo padre, bensì la sua. Mi raccontò gli eventi che lo portarono al pentimento e al ritorno in pieno coinvolgimento nella Chiesa. E così è stato. Nella niente per la chiamata di salvare i meno attivi, ho sentito una dopo l'altra storie di persone che hanno risposto all'invito di ritornare e di cambiare. Ho sentito una dopo l'altra storie di redenzione. Benché non potremmo mai ripagare il Redentore per ciò che fece per noi, il piano di redenzione richiede i nostri migliori sforzi per pentirci pienamente a fare la volontà di Dio. L'anziano Orsall F. Wittray scrisse Salvatore, Redentore della mia anima, la cui mano potente mi ha sanato, il cui potere straordinario mi ha elevato e ha addolcito la mia coppa amara. Quale gratitudine può la lingua esprimere, ominigno Dio di Israele? Non potrò mai ripagarti, Signore, ma posso amarti. Non è forse stata la Tua parola pure il mio diletto, la mia opera di giorno, il mio sogno di notte? Possano allora le mie labbra proclamarla ancora e possa su tutta la mia vita riflettere la Tua volontà. Rendo testimonianza del potere e dell'espiazione di Cristo. Quando ci pentiamo e veniamo a Lui, possiamo ricevere tutte le benedizioni della vita eterna. Prego che possiamo pentirci e venire a Lui, scrivendo così la nostra sport di redenzione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie. 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 Grazie.